Buongiorno FTE Online, Fuzzi Mib sulla parità questa mattina, i prezzi sono all'interno dell'intervallo percorso due giorni fa con una candela decisamente rialzista, da due giorni, quindi ieri e oggi le quotazioni sono rimaste all'interno di quell'intervallo, questo tipo di comportamento di solito anticipa una situazione d'attesa da parte del mercato, domani saranno resi noti i dati sull'inflazione USA, è possibile che gli operatori stiano aspettando l'uscita di questi dati per capire cosa farà la Fed nell'imminente meeting di politica monetaria, di fatto per il momento segnali di forza che sono stati inviati nell'inizio della settimana con il superamento di area 26,5 rimangono validi e fino a che rimarremo a 50 giorni che passa a 26,680 punti circa, direi che si può mantenere una impostazione positiva, sotto quei livelli c'è il rischio invece di tornare a scendere. Vi ricordo che il minimo toccato a fine novembre era sul 23,6% retracement del rialzo che c'è quindi siccome è abbastanza strano che una fase di correzione si limiti a ritracciare il 23,6%, c'è il rischio che una volta esaurito questo rimbalzo, che potrebbe anche tornare sui massimi di novembre, c'è il rischio che si riprenda con una fase discendente verso il 38,2%, quindi verso i 24.000 punti, solo se dovessimo salire oltre 28.000 questo rischio verrebbe decisamente allontanato, quindi positivi sì ma solo per quello che riguarda il breve termine perché in un'ottica temporale più ampia fino a che rimaniamo di sotto di area 28.000 c'è invece il rischio che poi la fase negativa riprenda, molto semplicemente quello che abbiamo visto quindi è un rialzo dai minimi di ottobre dello scorso anno interrotto da una prima fase discendente che abbiamo visto nel corso del mese di novembre, questo rimbalzo dovrebbe salire al di sopra dei massimi di area 28.000 che sono stati toccati a novembre per dimostrarsi la ripresa del rialzo, una ripresa del rialzo dell'ottura, siccome per il momento questa discesa vista a novembre si è limitata a ritracciare il 23,6% del movimento precedente, cosa che appunto come ho detto è abbastanza strana per una correzione, rimane aperta la possibilità che dopo questo movimento di rimbalzo che stiamo vedendo adesso ci sia una nuova fase calante che ci porti fino al 38,2% di retracement che come abbiamo detto si colloca invece intorno ai 24.000 punti, pertanto sopra 28.000 avremo questa possibilità di vedere salire ancora l'indice verso nuovi massimi anche distanti da quelli toccati a novembre, ma fino a che questa area di resistenza non verrà superata resta molto elevato il rischio poi di una nuova fase calante, pertanto si può dividere lo scenario che vi sto disegnando tra un breve termine che resta tutto sommato positivo e un medio termine che invece rischia di essere ancora improntato al ribasso. Per quello che riguarda il DAX siamo in una situazione del tutto analoga, questo è il rialzo, qui siamo su un grafico a elementi orari, quindi siamo passati dal giornaliero del Futsimib all'intraday del DAX, notiamo che il rimbalzo del DAX dai minimi di fine novembre si è limitato per adesso a ritracciare il 61,8% del movimento di ribasso dai massimi di novembre, anche questo è un elemento che ci fa pensare, finché saremo sotto 15.800 con il DAX c'è il rischio che la fase correttiva addirittura sia già terminata, sopra 15.800 potremmo tranquillamente arrivare a 16.000 ma anche a 16.100 dove c'è il gap del 23 di novembre, quindi uno scenario del tutto analogo a quello del Futsimib, c'è però poi successivamente il timore che da questi prezzi o da area 16.000 o da area 15.800 possa ripartire un elemento ribassista. Se guardiamo il Nasdaq ci accorgiamo che il movimento di rialzo che c'è stato dai minimi, questo è il Nasdaq 100 intraday future, ci accorgiamo che il rimbalzo che c'è stato dai minimi di inizio settimana, anche in questo caso ha ritracciato solo una porzione della discesa precedente, è vero che siamo usciti da questo canale ribassista, quindi c'è probabilmente ancora spazio per vedere salire le quotazioni, però anche qui non cambia sostanzialmente quello che ci siamo detti, cioè che solo se dovessero tornare di sopra dai massimi di novembre questa fase di crescita avrebbe le caratteristiche di un nuovo movimento di rialzo. La stessa cosa la potremmo dire se guardassimo anche il future Eurostox.